una mar verde ok guarda un po' qui indietro così eliminiamo quel cartello no 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 perfetto grazie Leo 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 la metti un po' per attraverso ok hai una segnità anche? al collo al collo segrete quello perfetto eccoci Leo ultimi scatti ragazzi che dovete andare dopo dopo Lorenzo grazie 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 come la mi è la 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 la